quindi Gabriele in famiglia ragazzo d'oro bravissimo poi ma scusi ma lui mi ha detto che lui ha la terza media però ha una cultura secondo me molto superiore lui non vuole parlare di parlare di cultura di usare questo termine vabbè però ci siamo spiegati prima insomma è uno che ha letto tanto le etichette sono altre non c'è una quantità un termomodo della cultura quindi che fa Gabriele a casa? legge continuamente? sta sempre a legge? a casa sta molto poco è diciamo la verità entra e scende e arriva la sera tardi e no quando è a casa è su internet scrive ecco televisione televisione anche qualcosa qualche termissione che ti interessa come diceva che tu dormi poco è vero Gabriele? dormo molto poco e poi in questi ultimi giorni a maggior giorno anche per questo intervento c'è molta pressione tu dormi nell'ordine di tre ore a notte? 180 minuti sì di sonno proprio profondo sì quando riesco però è alternato proprio è legato è una delle problematiche di chi è bipolare però spesso ti riposi durante la giornata magari 30 minuti in cui però non c'è il sonno ma c'è la chiusura degli occhi che è già riposo benissimo va bene ringraziamo tutti un saluto simpaticissima domanda invece ovviamente è difficile portarlo e il papa generale ci riusciremo